Ciao, prima di iniziare metti un mi piace e premi il tasto iscriviti. L'episodio dell'Isola dei Famosi inizia con l'arrivo di Elena sulla spiaggia, dove i naufraghi la osservano con sospetto. Il suo ritorno potrebbe essere destabilizzante per le shikas dell'Isola dei Famosi. La sua presenza di Elena suscita reazioni contrastanti tra i naufraghi. Cristina e Alessandra sembrano un po' essere preoccupate. La settimana sull'Isola è passata descritta come abbastanza tranquilla, ma c'è un senso di tensione per la possibilità che l'equilibrio sia di nuovo compromesso con il ritorno di Elena. Tutti si preparano per affrontare le sfide che potrebbero presentarsi. Elena esprime il suo risentimento nei confronti delle altre naufraghe. In particolare Cristina, che ha tradito la sua fiducia. Elena si sente delusa e ingannata, definendo Cristina una persona ingrata. Elena critica l'atteggiamento di Cristina, dicendo che sembra seguire uno script un copione preparato ed influenzata dal gioco per arrivare alla vittoria finale. Le shikas non le mandano a dire e nel faccia a faccia tra le naufraghe emergono le tensioni e delle divergenze. Pamela prende la parola e affronta Elena, dicendole che non sia aperta con lei come avrebbe voluto e che non sono compatibili a livello di carattere. Elena risponde dicendo che anche Cristina ha parlato male di lei con altri naufraghi, creando ulteriori tensioni. Elena vuole la sua rivincita e sfida tutte le naufraghe mettendo in palio la sua permanenza sull'isola e quella di Gian Maria Sainato. Elena ha la sua vendetta e vince la sfida dei letti inclinati. Le naufraghe si sono confrontate e hanno cercato di chiarire le loro divergenze, ma il clima sull'isola rimane carico di rivalità e desiderio di rivalsa.